Bene ritrovate a tutti in un nuovo video Oggi finalmente colgo l'occasione di poter ringraziare questa fantastica azienda che mi ha omaggiato di questo prodotto qui La Fit Tea Mi ha omaggiato del Body Detox Fitberry e il suo colino all'interno è un prodotto completamente naturale al 100% che ha spopolato su Instagram, su Youtube, un po' dappertutto sul web Vediamo subito gli ingredienti che ha al suo interno Abbiamo scale di mela, tè verde, china, scale di zenzero, folli di ortica, citronella, tarassaco, tursi scale di barbabietola, bacche di rosa canina, aromi, mirtilli, lampone e mora Questo prodotto qua mi ha incurossito veramente tanto e ho detto proviamolo perché alla fine non ci costa niente Ho visto che ha veramente tanti benefici e adesso qui ve li vado ad elencare Allora, scusate, accelere il metabolismo Aiuta a bruciare i grassi più velocemente Aiuta a perdere peso in modo sano associato all'attività sportiva Pulisce l'organismo liberandole dalle tossine Riduce il senso di gonfiore delle gambe Aiuta a combattere la ritenzione idrica Idrata e regola per una pelle più liscia e più luminosa E dà un senso di energia e riduce il senso di stanchezza Il più per voi l'azienda mi ha omaggiato di un codice sconto personalizzato Ve lo metto qui nell'info box e anche una nuvoletta Potete andare sul loro sito www.fit.it E potete utilizzare il mio sconto come Patti Stella 10 del 10% Sull'acquisto dei prodotti Il più per voi l'azienda Io l'ho appena preparato e l'ho fatto raffreddare Come gusto è veramente buonissimo Io che sono abituata comunque a non dolcificare Mi va bene così anche se tante ho sentito che comunque mettono un cucchiaino di zucchero O un cucchiaino di miele Vieni qua, vieni Aspettate un attimino Vieni, vieni, vieni Vieni Per chi non lo sapesse Ecco chi è il nuovo arrivato a casa Lui si chiama Zeus E' un piccolo cucciolo di Jack Russell E' il mio piccolo cucciolotto di due mesi e qualche giorno E' questo cucciolotto qui Che piange sempre Che vuole comunque giocare ed essere coccolato Ragazzi, che dirvi Provatelo insieme a me per 28 giorni E vediamo i suoi benefici A me piace un sacco Grazie all'azienda della Fit Tea Che mi ha omaggiato Spero comunque di poter avere altre collaborazioni con loro E ci vediamo dopo 28 giorni Per vedere su di me l'effetto che ha fatto Adio Ciao Ciao